ed eccoci qua ragazzi bentornati nel canale di danix torniamo con pes 2019 proseguiamo la modalità diventa un mito allora andiamo avanti con la prossima partita di campionato stiamo andando anche bene tutto sommato abbiamo fatto due vittorie in un pareggio nelle prime tre partite quindi però siamo usciti dalla coppa nazionale abbiamo perso ai tempi supplementari e quindi siamo già fuori dalla coppa ma ci dedichiamo solo al campionato meglio meglio e quindi andiamo avanti contro Heracles Heracles non so se si pronuncia così ma va bene vediamo un attimo cosa cominciamo a fare eh non ci siamo andati attenzione che ci arriva la palla mamma mia che gol qua palorrette e buttala buttala in sacoccia questo lo vediamo eh questo lo vediamo in casa comunque andiamo sempre bene qui non ce ne arriviamo di testa però il palorrette che non può nulla non può nulla e subito subito la fortuna fortuna sitta sta già vicendo e tra l'altro abbiamo sempre vinto in casa quindi uno stato che evidentemente ah ok hanno già pareggio mi sto zitto mamma mia subito subito non so come hanno fatto vabbè neanche lo voglio vedere 7 solo te saranno indifesa lasciate quello dire comunque allora vabbè vabbè cioè sta come difficoltà siamo a mitio non è una difficoltà estrema però per il momento otteniamola poi vediamo eh guarda fuori gioco ci stiamo riprovando nettamente 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 comunque già subito due gol in meno di 20 minuti quindi in certe palette non segniamo manca un gol tutta la partita qua già due non ho fatto quindi dipende dipende dalle squadre che affrontiamo eh sbaglio qua squadra oh mamma mia cosa ho rubato cosa ho rubato è la panna questo fottuto però che mamma mia cosa abbiamo rubato ragazzi ragazzi cioè guarda qua era l'ultimo uomo rubato senza fare fallo niente vai corner vediamo se no non ci arriviamo ci arriviamo due volte ma niente telefonate e di testa siamo ancora scarsi dobbiamo migliorare ci arriviamo anche anche però non riusciamo a dare forza al colpo di testa che è la precisione quindi ci manca ancora la potenza la potenza di testa vabbè vediamo se andremo a migliorare qua brutto passaggio e poi e qui è rimessa è rimessa perché l'abbiamo buttata a noi ci è rimbalzata sopra però almeno sono partite più combattute chiaramente se mettiamo direttante sicuro vinciamo male l'abbiamo fatto l'abbiamo provato una partita direttante abbiamo fatto tre gol così quindi secondo me direttante non niente buttala niente ma sono scarsi sono pippe la precisione non esiste per lo attraverso e prendono non hanno mai segnato nella nostra squadra gli altri giocatori solo noi abbiamo fatto gol una cosa imbarazzante era fuorigioco comunque siamo troppo in fuorigioco però come ho detto noi dobbiamo 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 stare lì nel nostro posto davanti al portiere quasi quindi dobbiamo stare lì come del rapace e buttarla dentro buono qui come l'abbiamo ottenuto senza fuorigioco ancora mamma mia quanti fuorigioco stiamo collezionando una madonna una madonna di fuorigioco troppo in avanti siamo l'edizione però mi sono meno scarsi questi almeno comunque non fattibili difesa non sembra di quelle difese che si chiudono quindi magari segnano pure però la difesa non è buona è meglio pure così perché almeno c'è più partito se chiudono sono pallose sono quelle squadre che si chiudono solo che non te fanno proprio passare attenzione che qua mi sa che stanno la buttano la buttano la buttano questi deficienti maledetti bene bene eh la partita bene ma adesso stiamo pure perdendo è così è così c'è sta c'è sta partiti bene guarda qua adesso stiamo pure perdendo può capitare ma la rimettiamo noi sempre noi risolviamo maledetti questi deficit dei nostri che non la vota 2 a 2 si ritorna dai dai che non sono buoni questi indifesa sono pippe su cioè tocca risolvere a noi siamo 11 contro 1 4 che dove la tiri non c'è nessuno lo vedi che non c'è nessuno dove la tiri dove la tiri c'era nessuno e la butta a random così stiamo andiamo andiamo qua a mettere che stanno facendo è quasi finita vediamo se almeno un punto lo caparriamo perché la sconfitta non c'è stata secondo me però vai mi piacciono questi passaggi abbiamo sbagliato anche qua regalandola vabbè niente è finita va è finita non è dare questo dannato ma che cavo finita fischio vabbè dai c'è sta 2 a 2 l'abbiamo rimessa ah poi autogol l'hanno fatto non l'hanno manco segnato guarda qua ma meno male che l'abbiamo rimessa in carreggiata sta partita perché se no era brutto siamo quarti con solo due punti c'è il psv chiaramente già primo alla fine eh c'è l'ajax eh l'ajax una squadra che punta a vincere il campionato quindi penso che non sarà facile penso che non sarà facile però non si sa mai eh come ho detto qua eh le squadre forti sono il psv e l'ajax sono quelle che competono per il campionato chiaramente poi ci sono le altre che sono più ma anche il feinor il feinor vuole è una squadra che gioca anche in Champions quindi spesso come le altre due però biglian tra l'altro quest'anno ha giocato il psv contro l'inter era nello stesso girone però poi niente non è andata bene l'ajax mi sa che si è qualificato agli ottavi eh se non sbaglio quest'anno vediamo se comunque non è un ajax come era anni fa diciamo quando era proprio squadrone non è più come è calato molto prima anni anni fa era forte adesso diciamo che cioè ci sta va in Champions quasi ogni anno però non è un squadrone che come le solite che ci sono adesso Real Madrid Barcellona così però Imma era molto forte anni fa tanti anni fa allora vediamo eh pressa questi passaggio buono però non ci arriviamo siamo fuori gioco qui siamo già anche stanchi molto questo non va bene questo non va bene no che cavolo fa abbiamo fatto il vero non so cos'è che abbiamo fatto qualcosa non è servita niente le rose secondo me non sono aggiornate come solito di PS anche perché è uscito all'inizio settembre PS dopo FIFA quindi credo proprio che non sono aggiornate per niente le rose delle squadre però non lo so magari lo disse niente troppo lungo troppo lungo è fatto un tiro di passaggio è fatto direttamente un tiro non un passaggio non è così noi siamo tra le linee difensive tra poco eh l'ho perso già finito il primo tempo eh non ha giocato bene però l'Ajax eh anzi eravamo sempre noi nella parte nella metà campo però lo abbiamo chiusi bene ma magari loro fanno un tiro e segnano poi è fatta però c'erano giocatori buoni per segnare ma noi segniamo solo noi quindi non è che possiamo fare tutta questa cosa ma l'abbiamo recuperato sì cosa è sempre di tacco no no buttarla fuori regaliamo la palla così ma perché fanno sti erroracci sì che stiamo a fare che tiro qua e buttiamola attenzione contro l'ajax si va a segnare vediamolo anche qua allora l'ho ripassata me l'ha ripassata e boom non ci arriva 1-0 attenzione contro l'ajax ma noi giochiamo meglio con gli squadroni che con squadre scarse diciamo comunque non mi stai dispacciando questa squadra non è scarsa scarsa non prestano tanto e sbagliano un po' troppo sti passaggi però tutto sommato non sta giocando male passavo peggio come ho detto adesso qua dobbiamo spazzare immediatamente che questi ma c'è punizione mi sa beh c'è punizione vai 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 buono ma è corner è corner c'è prova no c'è prova ma questo ce li togli devo andare sempre qui maledizione la buttiamo proprio noi ma regaliamo ancora un corner eh ci mette sempre qui perché il nostro posto è qua però 8 gol 8 gol cioè l'ha segnato quello o 8 gol no Hunter mi è sembrato 8 gol il mio però c'è una cosa strana no c'è arrivato quello sembrava che c'ero io però non anche ma fammi vedere eh c'ero ma l'ha presa proprio prima quel maledetto di Hunter vabbè niente 1 a 1 va cappuccetta di Hunter per pareggio eh peccato peccato tra l'altro noi siamo stanchissimi adesso quindi non è che possiamo fare molto però era un po' sicuro che non si andava a vincere con l'Ajax però vediamo ancora un po' di cosa non sta giocando solo l'Ajax ragazzi quindi non è che stiamo a fare molto noi vediamo se riusciamo almeno anche qui a tenere il pareggio che non è male eh siamo stanchissimi noi non ne abbiamo più attenzione brutto passaggio che Cristo dei passaggio fai ma vai a ammazzarti ma è un pietoso passaggio un pietoso passaggio non è un passaggio quello ne crocchiamo passaggio va finita finita va vai a difendere vai a difendere vai spazza via va niente 1 a 1 va bene c'è sta con l'Ajax questo a pareggiare quindi non è che possiamo fare un gol a raffica però è sempre un punto comunque restiamo 9 11 sempre di due punti non è che stai andando a bomba nel PSV per esempio che è là davanti sono due punti quindi andiamo alla prossima contro TheGraphShop come si chiama per il momento siamo ancora imbattuti comunque campionato ragazzi non stiamo mai andando male con questa squadra che penso che sia di bassa classifica quindi sto sommato stiamo solo facendo noi gol non hanno ancora segnato altri giocatori solo noi per forza ci devi mettere titolare per forza se no non vinci non vinci se no facciamo ancora pochi gol però questo no non è fuori gioco si è fuori gioco si ce l'abbiamo buttata ma peccato 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 purtroppo era fuori gioco ancora l'arbitro ma braccio alzato abbiamo capito basta non è che deve rimanere un'ora siamo tutti bassi famosa l'arbitro l'arbitro pure c'è mezzo abbiamo i guanti evidentemente c'è freddo perché avevo messo anche i guanti quando fa freddo e abbiamo i guanti un attimo tenere aspetta che è fuori gioco malissimo qua e mo la buttiamo però eh mo basta e che cos'è va stavolta si 1 a 0 ma non è fuori gioco andiamo andiamo che stiamo facendo una madonna di gol che poi è ottimo anche per la classifica a marcatori eh non è cioè facendo molti gol ci vogliono poi squadre più forti vediamo già se già a metà campionato provare chiedere il trasferimento non lo so ma comunque non mi sta dispiace con questa squadra non sta andando male probabilmente sono scarse le squadre del campionato perché però non sta andando male con questo perché mi ricordo che l'anno scorso andavamo malissimo all'inizio eravamo comunque in una squadra molto no peccato se mi arrivava ai piedi se mi arrivava ai piedi era un'altra possibile occasione segniamo poco però tipo sempre uno massimo due gol ma arrivata qua peccato teniamo un attimo magari ci arriva una palla buona ci anticipano ci anticipano di testa ma eravamo comunque lontani dal portiere tanto comunque la sensazione che quest'anno è più difficile perché ci marcano anche proprio a uomo quindi mamma mia scheggiamo il palo qua palo esterno credo bel tiro però niente da fare pare un maledetto 2 a 0 questo vai recuperata la palla su fuori gioco ma l'immortaggitura va bene a me me lo dico a me però porca di quella sto fuori gioco abusivo avremmo fatto una valanga da quando stiamo giocando adesso troppo troppo in avanti sono troppo in avanti spaziamo ma che pareggia vai però se per di palla così non ci piace vai 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 passala qui dai eh l'avevo pure presa ma il portiere è uscito malefico prima 2 2 l'abbiamo buttata perché ho sempre il dubbio che non fischi eh no infatti e infatti secondo gol annullato mamma mia ragazzi qua ci stanno annullare il mondo ma madonna secondo gol annullare va bene fuori gioco ma cristo ci stanno annullando il mondo qui saremo già 3 a 0 se non era questi cavoli fuori gioco maledetti 2 gol annullati che cavolo vabbè comunque si vince ma qua secondo me abbiamo fatto il tripletone vabbè però va bene è giusto cioè fuori gioco ce sta quindi ma va bene così ci annullano i gol è inutile ci annullano ci annullano i gol siamo terzi ottimo andiamo avanti ok giornata 7 contro excelsior celsior no ti nomi strani stai squadra siamo pure primi con 6 gol insieme a De Jong del PSV come ho detto siamo a medio come difficoltà che ci sta perché vedete non stiamo facendo tutti sti gol uno massimo due partite ne fanno quindi non sono partite neanche di goleata quindi va bene pure la difficoltà media non stiamo con uno squadrone perché non credo che sia un'assolutamente uno squadrone quindi qui sbagliano malamente ma credo che ce la prendano tra poco e ci murano il tiro ci murano il tiro giustamente cristo pensavo che eravamo precisi ma niente niente vabbè pazienza che subito andiamo di testa con il cappuccino ma niente comunque mi sa che quest'anno tutti i nomi giusti su pass almeno qui segnano stiamo per segnare noi vedete come succede una volta e poi segnano gli altri e va bene e va bene è giusto così stiamo per segnare noi boom tirano quelle dei segni trasferta non è che giochiamo benissimo giochiamo meglio in caso però migliorare anche in traste eh sbagliato sbagliato eh non mi arriva non mi arriva la palla non mi arriva non mi arriva la boccia stiamo perdendo maledizione un'ottima colza e questi presto però mi sa che sono abbastanza aggressivi quando c'avevamo la palla niente 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 ma questi hanno trovato il gol random secondo me eh cioè hanno tirato e l'hanno buttata dentro perché mi sa che non è che stanno facendo tutta sta cosa non mi arriva non mi arrivano i piedi mali niente che difesa hanno c'è un muro c'è un muro nella difesa c'hanno un muro tengono palla ragazzi voglio finire il primo tempo 1 a 0 quasi finita ormai vabbè 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 la data era finita Bruins per il momento risolve comunque sta risolvendo sta partita segnato il random secondo me maledetti allora quando non stiamo non vinciamo almeno il pareggio non è male però non sarà facile mi sa che questi sono molto aggressivi pressano bene questi non riusciamo a fare un ammazzo stiamo sbagliando troppo non mi arriva non mi arriva nei piedi se mi arriva non vi perdono maledetti non ci arriva non ci arriva nei piedi maledizione ragazzi una palla decente e sbagliamo anche il passaggio maledizione no guarda tanto sono messi in male no spazzano via noi siamo fuori gioco tra l'altro e siamo anche stanchi in teoria quindi no non mi sa che questo è perso non 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 riusciamo non riusciamo questa è persa mo mi sa che mi toglie pure si mi ha tolto mi ha tolto va vai vai è persa dai giustamente quando fanno così sono un bastard vediamo se segna ma non credo eh vabbè ma che tiro fai dai ma fai un passaggio fai ma dai eh arriva la prima sconfitta mi sa del campionato questo Cristo la scuola si è andata così finito finito niente perdiamo una zero va bene va bene questa c'è sta questa c'è sta ci ha tolto malamente poi eh scendiamo al settimo posto scendiamo al settimo posto andiamo con la prossima partita allora le amichevole con l'italia comunque penso che non le faremo ragazzi le vado a schippare perché tanto non servono a niente sinceramente poi non lo so le facevo le schippavo anche nell'altro posto tanto non c'è nulla di per vincere cose quindi se no allunghiamo solo le stagioni le partite quindi allora vediamo se almeno qua a parte che questa il colore è molto simile alla nostra maglietta non è tanto diverso verde e giallo pure quelli sono molto simili potremmo mettere un colore diverso noi non è che buono questo passaggio però non riescono mai a segnare noi stessi sono proprio scarsi a buttarla dentro non c'è niente da fare se non segno io non segnano quelli c'è niente proprio inutile inutile vai vai attenzione buon passaggio e la buttiamo eh questo non si poteva sbagliare vai così vai così abbiamo chiesto anche giusto in modo di non andare in fuorigioco come sempre e questi mi sembrano molto scarsi però vediamo se e come cambierà il loro approccio alla partita oh cavolo qua certo ho detto che sono scarsi però riusciamo a uscire dalla nostra ma eh cavolo sai che sta anche piovendo perché il campo mi sembra scivoloso facciamo un po' salire la squadra va perché stai no qua tanto che hanno il colore impossibile quindi non è che si capisce bene no la stavo richiedendo perché l'ho anche messo bene beh che chiamo lo andiamo a fare ci muoviamo o no a passarla sta boccia maledetta va e il primo è andato il primo è andato è un altro sarebbe meglio farlo ma per chiudere la partita non sarà facile adesso stanno giocando anche gli altri no non così non te l'ho chiesta una certa volta proprio va attenzione quando fanno falli ci ammonisce ah in faccia ci ha preso la palla messa ci è rimbalzata in faccia se non vedere una cosa fammi vedere ah no ci ha fatto il fallo a noi comunque come so ma come marcatura stretta ma cosa ottimo ottimo passato ecco la marcatura stretta doppietta va chiudiamola sta partita malefica con il diluvio il diluvio il diluvio ragazzi qua risolviamo è importante come ho detto perché è più sicuro chiedendo la palla da mezz'ora e non arriva maledizione che è corner penso di sì siamo anche noi perché 2 a 0 è buono quindi dobbiamo andare a difendere anche perché siamo stanchi abbiamo detto tutto anche in questa partita per provare a vincere infatti come ho detto non corre più e buttano fuori dalla paura spazzano via penso che ci toglie non lo so vediamo non ci toglie stranamente quando segniamo non ci toglie mai e stiamo stanchi stiamo tutti ci fatto se comunque si vede che sono più scarsi questi rispetto a quella di prima sì quelli ci pressavano molto attenzione che fa falla al portiere vabbè doppietta ottima cosa ottima va bene va bene dai ne facciamo un'altra poi ci salutiamo abbiamo 4 partite a video vediamo quanto recuperiamo e saliamo solo eh cioè la zetta che sta già iniziando a macinare 20 punti però va bene dai di nuovo il William second che ci aveva eliminato nella coppa coppa nazionale cioè va eliminato 1 a 0 e supplementare quindi vediamo se riusciamo a battere nel campionato almeno però siamo comunque a meno 5 dal primo posto per una squadra che è di bassa classifica dai sta andando pure bene sto fortuna Sittard questa era bella tosta l'avevamo vista nella coppa in Lega che ci aveva battuto maledizione non abbiamo angolato non abbiamo angolato non abbiamo angolato per niente nel tiro che punizione punizione buttiamo in avanti che se no c'è nessuno e già ci stanno pressando questi ve l'ho detto che questi vanno abbastanza a bomba partono subito a bomba questi dai muoviamoci 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 ah era corner ok c'è nessuno davanti eravamo tutti lì però questo ha il vizio di tenere molto la palla questa scuola quindi non ci fa giocare ha il possesso palla molto alto quindi a noi non ci arriva mai una palla maledizione è difficile da quel punto di vista fare azioni buone perché ce l'hanno sempre loro ce la prendono inutile andare avanti inutile buon passaggio e la buttiamo scusi dribbiamo il portiere lì che c'era un attimo il portiere qui abbiamo volato bene abbiamo volato bene dai 1-0 almeno riusciamo a batterli in campionato a questo ci hanno eliminato nella coppa ok punizione e vedete il possesso è nettamente a favore di loro per quello come ho detto tiene molto la palla una scuola che tiene molto la palla infatti sta giocando solo quella e che noi abbiamo segnato così una botta di fortuna come si chiama la nostra squadra e qui stavano per buttarla non ho visto il tiro ma secondo me meglio farne un altro perché uno non basta però poca roba un gol dentro questi ma se me la ripassi con questi qua e che cavolo e vai un po' avanti pure tu uno dunque non riescono ancora a segnare gli altri giocatori magari perché come ho detto la passano sempre a noi e li dobbiamo segnare solo noi però sembra che abbiamo solo un attaccante siamo noi dai Cristo voglio farne un altro per chiuderla ma non esatto che qua no niente non riusciamo a prendere la tiene è un casino la palla sta maledetta squadra non ci fa giocare praticamente una squadra che non ci fa giocare guarda qua il possesso 34-66 che c'è una squadra che cavolo ma che stiamo stiamo a giocare qua adesso siamo riusciti a recuperare e sbagliano passaggi mi sa mettiamo pure noi a sbaglianza ma a posto mi è passato troppo tardi palo ancora maledizione ora palo ci nega il 2 per chiudere definitivamente la partita a nessuno qui l'ha passata come quei fuori gioco ma la madonna partiti troppo presto troppo presto siamo partiti lo scatto è una paletta un po' equilibrata a parte il possesso non è vero posso non lo stiamo ottenendo dai eh non ci arrivo non ci arrivo niente ragazzi la sfortuna pari attraverso un po' tutto va eh va bene è inutile c'è niente da fare a me l'ha passato non penso vabbè dai comunque si vince rischettiamo la sconfitta nella coppa con questa squadra e va bene così dai un'altra vittoria è buona per la classifica del campionato eh la zetta sta sempre macinando però siamo lì secondi in teoria con 18 punti ci sono ben quattro squadre quindi dai sta andando bene ah tra l'altro è pure ultimo il Villan secondo me non è non era messo bene e niente vabbè ragazzi ci vediamo alla prossima come sempre voi commentate o dividete iscrivetevi al canale iscrivetevi al pagina facebook twitter google plus e noi ci vediamo alla prossima un saluto a tutti da next 0689 a 9